Sabato 16 e domenica 17 ottobre a Cherascola e Chiocciole sono uno spettacolo all'interno del Festival Internazionale dedicato alle Chiocciole. Con noi Simone Sampo, organizzatore di Helix. Benvenuto. Grazie. Ci può dare un'anteprima di questo evento? Sarà sicuramente un evento, come diciamo noi, elicoidale, in quanto in queste due giornate faremo vedere in che modo la Chiocciola può essere utilizzata. Partiremo comunque da un'area food non stop da mezzogiorno alle 11 di sera, dove andrà in onda la trattoria della Chiocciola, per non dimenticarti di come viene cucinata in modo tradizionale. La Chiocciola Stellata, quindi avremo cuochi stellati che verranno a cucinarla nel loro modo. E la Chiocciola Cool, che vuol dire Wikipedia da Milano che ci cucinerà il sushi con la chiocciola. L'Escargo Burger con Maurizio Garola e la pizza con le Chiocciole con Totò. Un modo nuovo di far vedere questo alimento, un alimento importantissimo. 0,7% di grassi, 14% di proteine, ma non finisce qua. Ci saranno dei talk, ci saranno i grandi nomi delle lang, Maurizio Garola, Giorgio Rivetti, Teo Musso, che faranno dei talk. La domenica verrà Samuel dei Subsonica con la banda Cadabra per cantarci il cinema, questa nuova canzone che ha fatto. Tutto questo per far vedere che a Carasco è nato un nuovo movimento che si chiama Elix. La Chiocciola nella cucina, nel beauty. Ci sarà uno stand dove faremo i test della pelle e dove la bava della lumaca prenderà un po' la parte del protagonista. Cercheremo di far vedere come la Chiocciola ha dimostrato al mondo che l'economia circolare, quando diventa tridimensionale, diventa elicoidale. Ecco, un nuovo modo, creare un evento, un modo unico, appena adesso hanno montato le Chiocciole di Crachinart, l'invasione è iniziata. Quindi Chiocciole sulla torre di Carasco, Chiocciole ovunque elicoidali e un modo nuovo per farvi assaporare un weekend elicoidale. Grazie per averci dato quest'anteprima. Grazie. È stato con noi Simone Sampo, organizzatore dell'evento Elix.